È molto chiaro, il PD non esiste più come partito e ha bisogno per resistere dell'appoggio di personaggi come Verdini. Quindi si incontrano alla Camera, Verdini e il capogruppo del PD Rosato e stabiliscono delle cose. La prima cosa che hanno stabilito è l'appoggio di Verdini al governo di Renzi per andare avanti e Renzi gli avrà garantito qualche viatico legislativo per i processi di Verdini.